Pasqua e lunedì dell'Angelo sono andati in archivio in questo periodo di difficoltà ma l'attività negli ospedali non si è mai fermata e per chi combatte il virus nella trincea delle terapie intensive e nei reparti la tregua non si è vista. Per loro, per tutti quelli che si battono ogni giorno sul fronte della più grande emergenza che il nostro territorio abbia affrontato negli ultimi decenni è indispensabile perciò ricominciare a donare. Heliosonlus ha già raccolto oltre 400 mila euro per il nostro ospedale al quale ha donato molte apparecchiature fondamentali per combattere il virus. Prima di Pasqua è arrivato a San Bassiano un ecografo touchscreen di ultima generazione che nel giro di poche ore è stato reso operativo. Altre attrezzature sono già arrivate in ospedale come i letti per le terapie intensive, i pulsi ossimetri e i saturimetri per conoscere il livello di ossigeno nel sangue dei pazienti. Ma c'è ancora tanta strada da fare. L'obiettivo è quello del milione di euro e assieme ce la possiamo fare. Donare è fondamentale. Ogni singola donazione permette a Heliosonlus di contribuire a salvare una vita. Una vita che domani potrebbe anche essere quella di ognuno di noi o delle persone che ci sono care. Donate. Con i bar chiusi anche l'equivalente di una decina di caffè può fare la differenza e può riempire le terapie intensive di apparecchiature all'avanguardia.